Governo e maggioranza, K.O. all'Assemblea regionale. Al mattino di oggi bocciato il documento di programmazione economico-finanziaria. Le reazioni. Gero Miciche. All'Assemblea regionale al mattino di oggi governo e maggioranza sono stati battuti. Infatti l'Aula ha bocciato il DPEF 2016-2018, il documento di programmazione economico-finanziaria. A Salavercole è stata presente solo la metà dei deputati, 45 su 90. Molti gli assenti tra le fila e la maggioranza. 21 i voti a favore, 21 i contrari e 3 gli astenuti. Dunque si complica l'iter per l'approvazione di bilancio e finanziaria. Immediate le reazioni, il già candidato alla presidenza della regione Nello Musumeci afferma il sogno del bilancio 2016 senza ricorrere all'esercizio provvisorio è svanito sotto il tiepido sole di una giornata pre-natalizia. In Aula due deputati dissidenti della maggioranza e l'assenza di altre decine hanno messo il governo in minoranza subendo la bocciatura del documento di programmazione economica e finanziaria. Quindi tutto ricomincia da capo. L'esordio del quarto governo Crocetta avviene con una sconfitta nell'atto più qualificante dell'azione politica, qual è il bilancio. A pagarne le conseguenze saranno ovviamente le categorie più deboli. Ancora più radicale è il Movimento 5 Stelle che invita l'assessore all'economia, Bacei, a dimettersi. I deputati grillini hanno commentato grazie alla nostra richiesta di voto palese il documento di programmazione economica è stato bocciato dall'Assemblea e la plastica dimostrazione che al di là delle dichiarazioni di circostanza e dell'interessata bocciatura della mozione di sfiducia a Crocetta questo governo non ha la maggioranza per governare una regione ormai letteralmente allo sbando. Le numerosissime assenze oggi in Aula dimostrano inoltre quanto i deputati che erano presenti in gran massa a Sala Vercole per difendere le loro poltroni in occasione della sfiducia al governatore tengano le sortie alla Sicilia. Bacei ne prenda atto e presenti l'unica cosa sensata che può sottoporre in questo momento alla pubblica opinione le sue immediate dimissioni.